la bull run di bitcoin è iniziata a marzo del 2023 e non si fermerà così arturais si è espresso relativamente alla questione cripto soprattutto a bitcoin nella block chain di corea insomma una conference che ha fatto recentemente e ha affermato questa cosa la burana il bull market bitcoin è iniziato a marzo collegandolo alla questione della politica della banca centrale americana di con il programma di salvaguardia dei 25 miliardi della stabilità del sistema bancario americano ben ciao a tutti bentornati in questo nuovo video andiamo a vedere questa affermazione di arturais che cosa significa perché l'ha fatta perché dobbiamo approfondire quelle che sono le matiche che sono dietro questo ragionamento non fermarci a quelli che sono magari soltanto insomma i proclami no per capire perché effettivamente arturais ha detto una cosa del genere e da dove arriva è tutto un ragionamento di natura macroeconomica quindi è tutto un ragionamento che lega il pricing di bitcoin e quindi l'intero anche mercato cripto a questioni di natura macroeconomica ai tassi di interesse ai rapporti di relazione tra il tasso di interesse e bitcoin e ovviamente alla questione fiat money o fiat money intesa come carta igienica la chiama la chiama così allora iniziamo un po a capire che cosa ha detto arturais e cerchiamo di approfondire se effettivamente questa affermazione ha una valenza non tanto da un punto di vista di proclamo ufficiale ma da un punto di vista di natura economica cerchiamo di analizzare il dato in sé allora cosa principale e arturais appunto come vi dicevo ha dichiarato questa cosa nella recente conferenza della corea e il 5 settembre scorso ha parlato anche un po della questione facendo appunto collegare la sua affermazione al fatto che da quando la fed ha introdotto quello che era il programma di salvaguardia del sistema bancario eravamo a marzo sostanzialmente questa è stata la reazione questa è stata la reazione che vedete in questa zona questo è dovuto appunto a quella news una volta che è stata introdotto insomma questo programma di salvaguardia molto a stabilizzare il sistema bancario degli stati uniti siamo entrati secondo lui in bull market in realtà noi dal punto di vista ciclico sappiamo che teoricamente siamo entrati in bull market da novembre però sostanzialmente diciamo lui parla di una conferma perché questa cosa perché in sostanza due delle degli scenari che si possono andare a delineare hanno preso entrambi una piega positiva dopo la creazione di questo programma di salvaguardia e cioè uno la questione della fiat money che si deprezza quando il sistema bancario americano secondo lui avrà problematica e l'altra invece una questione legata proprio all'opportunità degli investitori e soprattutto i ricconi di andare a gestire un capitale avendo magari una maggiore possibilità di fare gli altri allora andiamo con calma allora prima cosa ragazzi quindi da analizzare la questione dei 25 miliardi che significa arturais parla sostanzialmente della questione della e del tasso di interesse della questione legata al fatto che man mano che si va a svalutare il dollaro ovviamente bitcoin essendo al denominatore che ha un dollaro forse vi riporto anche una traduzione ecco dell'articolo di coin telegraph che e di coindesk scusate che è molto interessante anche questo parla appunto della questione del fatto che essendo il al denominatore di bitcoin il dollaro ovviamente la valutazione in dollaro della della di bitcoin stesso ovviamente non può che salire infatti vedete qui anche finalmente ho trovato perché c'era ho diversi articoli aperti loro in un posto dichiarato il piccolo è una offerta limitata e quindi man mano che il denominatore della carta igienica così la definisce cresce cresce il valore di bitcoin in termini di valuta fiat si può alzare anche perché ha sottolineato che in pratica quasi tutti hanno smesso di ragionare in termini di valuta fiat dando per scontato che tutti gli investitori pensino che quella valuta sia si vada a svalutare quindi prima un motivo sostanziale è la scarsità di bitcoin in rapporto alla questione del dollaro se però guardiamo anche il graficone che vi ho mostrato del dxy cioè l'indice del dollaro americano teoricamente non vediamo un depreciamento ma c'è stato questa campana però qui c'è un recupero anche se ancora non abbiamo superato il livello di questa media di questa barra per in escare diciamo in sostanza una spirale rialzista del dollaro c'è da dire che però questo è un grafico che riguarda il dollaro nei confronti delle altre valute fiat quindi in sostanza essendo tutto il sistema corrotto secondo arturais questa svalutazione e riguarderebbe tutte le valute e quindi a prescindere anche il dollaro si può rivalutare ma su altre valute fiat ma non dovrebbe farlo in base a bitcoin quindi bisognerebbe poi verificare effettivamente se rispetto a bitcoin potremmo avere comunque un trend rialzista rispetto al dollaro nonostante una campana rialzista del dollaro rispetto alle altre valute fiat questo possiamo già vederlo in minima parte dal 17 luglio della settimana 17 luglio fino a questa attuale di settembre il dollaro ha guadagnato rispetto alle altre valute e dalla settimana del 17 luglio il bitcoin bitcoin in generale vedete ha perso rispetto a dollaro quindi questa relazione una questa qui che vedete e l'altra questa qui creata con il rialzo è assolutamente non è come dice ice in questo momento cioè sostanzialmente il dollaro è aumentato di valore rispetto alle altre valute fiat e anche rispetto a bitcoin tanto è vero che bitcoin ha perso rispetto al dollaro quindi in sostanza il dollaro aumenta sia su bitcoin sia sulle altre valute fiat quindi la questione scarsità ok è una cosa vecchia detta stradetta e ridetta però al momento si verifica un po tanto e non 4 passiamo al secondo motivo che secondo me è anche molto più importante la questione dell'incremento dei tassi non è più legato secondo secondo ice al ribasso di bitcoin quindi perché qua porta una spiegazione un po di natura tecnica ve la leggo l'ho tradotto in italiano ve la leggo nel frattempo questa insomma in pratica dice che le i rialzi dei tassi spingono sostanzialmente anche il pil e la crescita del pil perché danno più soldi ai ricchi che al loro tempo insomma poi aumentano la spesa questa affermazione forte soprattutto non è del tutto veritiera perché in realtà è vero che dando ragazzi aumenti dei tassi di interesse agevano i ricchi cioè chi possiede il capitale e quindi banche e ricchi del pianeta perché investendo in questo momento su obbligazioni o titoli del tesoro americano ottengono una performance molto alta allo stesso le banche che prestano il denaro ottengono molti più soldi prestando il denaro appunto perché i tassi sono alti quindi sostanzialmente lui dice questa politica di austerità della banca centrale americana porterà a un aumento del deficit perché per finanziare il debito pubblico dovranno emettere il nuovo debito pubblico questo è assolutamente in parte vero perché l'emissione del debito pubblico dovrà compensare anche l'incremento del tasso pagato sul debito stesso quindi è una spirale come già potete immaginare estremamente pericolosa però esiste e poi il pagamento di interessi più alti stimola la crescita del pil nominale creando un paradosso in cui gli aumenti dei tassi della fed alimentano inavvertitamente la crescita economica quindi secondo lui in pratica la relazione tra tassi altri e bassa crescita non è avvenuta nell'anno 2023 per questo motivo ora la questione è sostanzialmente nì perché è un nì questa cosa ragazzi perché diciamo è vero che aumenta la stimolo diciamo la spesa dei ricchi però il che sono anche decisamente di meno rispetto ai poveri e bisognerà comprendere se quella spesa diventa investimento se diventa investimento allora è vera questa affermazione se quella spesa è una semplice spesa non 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 diciamo compensa sostanzialmente gli effetti invece del credito al consumo che vengono tranciati dal rialzo dei tassi quindi quella della grande fetta della popolazione intendo investimenti nel senso che se i ricchi aumentano la loro capacità imprenditoriale aumentando gli investimenti in imprese quindi creando nuova occupazione ma soprattutto aumentando i salari dei lavoratori allora questo avviene ma in questo momento con la disoccupazione americana praticamente sotto il livello naturale è impensabile almeno che non si vada ad aumentare i salari allora anche questa affermazione è giusta però sostanzialmente un po' imprecisa alla fine lui conclude che sostanzialmente dice i tassi più alti o tassi svalutati in entrambi i casi spingeranno il mercato perché tassi alti non c'è più questa relazione e come lui dice io voglio avere anche un ritorno dell'investimento superiore perché se vado a mettere per esempio parcheggio di denaro presso la fed guadagno quasi il 6% dice allora cosa mi resta negli asset che può portarmi questo tipo di rialzo soltanto big tech e criptovalute quindi al di fuori di titoli tecnologici e asset tecnologici e criptovalute non ha senso per i multimiliardari andare a investire al di là dei tassi della fed e quindi del debito pubblico questo è vero è assolutamente la cosa corretta ragazzi perché con tassi di questa levatura quindi tassi diciamo portati a questo livello di 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 rendimento quindi 6 per cento circa andare a insomma investire in stock stock che poi tra le altre cose ragazzi bisogna anche ragionare molte andranno comunque recessione a prescindere perché quelle che soprattutto hanno davanti i mercati al consumo molto rilevanti poi perdono quote di mercato perdono ricavi in quanto i tassi alti ovviamente tagliano la fetta della spesa al consumo quindi sostanzialmente molte andranno in recessione è un calo degli utili ci sarà cosa conviene fare a chi ha tanti soldi restare in obbligazioni e titoli di stato a quel punto l'unica grande possibilità che ho e investire nelle big tech che hanno già il cash non devono pagare grandi debiti e investire magari nelle cripto queste sono le affermazioni di arturais allora questo è condivisibile allora morale della favola e poi tra le altre cose volevo fare anche notare una cosa veramente interessante quando come bonus diciamo arturais parla anche della questione legata al giro di vita sulle criptovalute legate alle regolamentazioni questa lotta contro la secca e afferma una cosa che io ritengo assolutamente essere giunto giusta quello che sto cercando di dire dice è che la criptovaluta in sé non è mai stato il problema ma il problema è chi la possiede questo secondo me è assolutamente vero cioè il sistema insomma regolamentazioni varie eccetera e in lotta contro chi possiede la cripto non contro il sistema delle cripto e non essendo in mano dei soliti noti diciamo così lui dice c'è questa lotta contro il sistema cripto e questo è insomma un po condivisibile anche ditemi la volta insomma nei commenti cosa ne pensate di questa cosa io la ritengo assolutamente così allora e invece per concludere la questione bull run iniziata a marzo secondo arturais è vera questa affermazione le basi che arturais getta da un punto di vista macroeconomico sono vere ma non verissime cioè sono un po superficiali tranne la questione legata alla opportunità di investimento in cripto e in stocks che possono avere rialzi al di sopra diciamo dei titoli di stato dove sta qui la questione questa è un'affermazione stravera quindi il l'opportunità insomma che offrono questi mercati la questione legata alla svalutazione del dollaro ve l'ho fatta vedere e non è avvenuto ancora poi magari avverrà come dice lui però al momento non c'è intanto aspettiamo di vederla e poi la questione legata al pil che non riesce a scendere degli stati uniti perché lui dice che la i ricconi che prendono più soldi spendono di più sì e no dipende appunto come questa spesa verrà rigirata quindi in sostanza anche in questo caso secondo me i due pilastri su cui si fonda questa affermazione non sono ancora avvenuti e cioè il pilastro del pil che non scende e il pilastro della inversione di tendenza tra il rapporto del valore del dollaro e bitcoin cioè un valore del dollaro che magari continua o a salire o a essere stabile rispetto alle valute fiat con tutte le valute fiat che si svalutano bitcoin dovrebbe iniziare a salire al momento non è avvenuto però questo secondo me è il quello che noi possiamo tenere sotto stretta osservazione per capire se effettivamente si sta andando a convergere verso le farmazioni di arturais quindi se dovesse effettivamente avvenire una cosa del genere lo vedremo sui grafici perché basterà vedere stabilità su questo indice e rialzo di bitcoin oppure ancora meglio rialzo di questo indice e rialzo di bitcoin allora sarà ok ovviamente vale l'ipotesi che se questo indice inizia a svalutarsi ragazzi ed x y scende bitcoin tale per una questione contingente matematica cioè al denominatore ci sta il dollaro quindi se il dollaro perde valore io aumento il mio valore visto che il numeratore teoricamente è stabile quindi questo è in linea di massima bull run quindi iniziata a marzo io direi arturais bull run iniziata a novembre del 2022 magari con un po di ciclici ciclica in più forse queste affermazioni sarebbero più semplici mi fido più dei grafici che di queste affermazioni di natura macroeconomica però avere un'idea generale anche di una persona che comunque ha una grande conoscenza del settore cripto è quello che dice non è mai non sensato è sicuramente un dato in più secondo voi il bull market è iniziato a novembre io preferisco di novembre diciamo rispetto a marzo perché novembre ciclicamente più corretto quindi da questo punto qui sì o no cosa ne pensate ragazzi per oggi è tutto noi ci vediamo nel prossimo video e buon weekend ciao